La prima a sbocciare questa primavera sarà Villa Monastero, previsto un ricco calendario di eventi, mostre e attività culturali a partire da marzo. Ad aprire la stagione le donne, con l'ingresso libero per la giornata internazionale della donna e un percorso al femminile sulle figure che hanno abitato la storica di Mora Lariana. Per tutto il mese di marzo il giardino botanico è aperto dalle 10 alle 17 e la casa è visitabile dal venerdì alla domenica negli stessi orari. Con l'allungarsi delle giornate anche la villa estenderà i suoi orari, ad aprire chiuderà alle 19 e 30 e la casa sarà visitabile dal martedì alla domenica. Tra le iniziative culturali, curate dal conservatore Anna Ranzi, la celebrazione del recente riconoscimento come museo da parte di Regione Lombardia e poi tanti altri anniversari che saranno occasione per valorizzare le collezioni museali in relazione alle vicende storiche della villa. I privati daranno un grande supporto prestando le proprie collezioni e dando una ricca donazione, tutti i sintomi del legame con la celebre dimora. Siamo pronti per affrontare la nuova stagione, commenta la presidente della provincia di Lecco, Alessandra Hoffman. Stiamo lavorando intensamente con l'obiettivo di far conoscere ancora di più Villa Monastero ai cittadini della nostra provincia e ai turisti provenienti dall'Italia e dal mondo, anche attraverso il web con il nuovo sito e i canali social. Tutti gli appuntamenti e servizi offerti su www.villamonastero.eu. Dopo due anni di difficoltà dovuta alla pandemia, conclude la consigliera delegata Turismo, Cultura e Villa Monastero, Fiorenza Albani, ci siamo impegnati per proporre un ricco calendario di iniziative che possano essere fruite appieno dai visitatori.